Siamo qui al Parco Ruffini, dell'evento organizzato dalla Consunta per le persone in difficoltà per celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità. Abbiamo qui il piacere di avere Silvio Magliano, presidente di Voltò, alle quale vogliamo rivolgere un paio di domande. Silvio, quanto è importante la diffusione della cultura di questo mondo, un mondo così importante come quello della disabilità? È fondamentale soprattutto se questa diffusione della cultura parte dalle scuole, dalle scuole elementari, dalle scuole medie, perché se insegniamo ai nostri ragazzi che la disabilità non è una barriera, ma anzi che magari qualche loro compagno di classe ha qualche difficoltà in più, ma questo è normale, quindi si può stare con loro senza problemi, anzi valorizzando a volte qualche disabilità, ecco questo penso che sia fondamentale perché questi ragazzi saranno le donne e gli uomini del futuro e se guardano la realtà con occhi diversi, soprattutto guardano le persone con disabilità con occhi diversi, la nostra sarà una società più accessibile, più inclusiva, per cui Voltò sarà sempre a fianco a iniziative come queste perché cambiano la mentalità delle persone. Mentre nel motto non arrendersi mai, quello che è la consulta per le persone con difficoltà ha diciamo diffuso per questi eventi, un consiglio ai giovani, ai giovani di oggi. Beh, questo è il motto del volontariato to cure, non arrendersi mai, il volontariato ha sempre cercato di abbattere barriere architettoniche, di abbattere barriere mentali, di chiedere ai governi e alle istituzioni di rendere questo paese migliore. E il volontariato lo fa con grandezza. È chiaro che non arrendersi mai è anche la modalità con la quale noi chiediamo a questi ragazzi, alle nuove generazioni di non rinunciare ai loro sogni, i loro sogni che hanno a che fare col futuro, con una famiglia, con un loro lavoro, ma non arrendersi mai è anche una modalità comunitaria, perché questa è la cosa bella. Non arrendiamoci mai, ma non arrendiamoci mai insieme, perché ne vediamo troppi che partono da soli cercando di cambiare la realtà. E' molto più importante quando ci sono eventi come questi, quando le associazioni mettono insieme le forze migliori del nostro paese per raggiungere traguardi molto importanti. Ringraziamo Silvio Mogliano per la sua disponibilità e per ora da Volonbright è tutto. Ciao, grazie, grazie a tutti.